Proseguono le indagini sull'omicidio e suicidio avvenuto ieri a Marina di Ragusa. Simone Cosentino, poliziotto, 42enne, prima ha ucciso la moglie con tre colpi di pistola e poi si è tolto la vita. L'uomo, prima di compiere il gesto, ha telefonato alla madre, alla quale avrebbe anche inviato un messaggio «Sto uccidendo Alice, prendetevi cura delle bimbe». Non si tratterebbe dunque di un raptus, ma di un gesto premeditato. Cosentino ha avuto il tempo infatti di telefonare, scrivere, impugnare l'arma di ordinanza e poi uccidere e suicidarsi. Nulla, secondo chi conosceva il poliziotto, avrebbe potuto far presupporre un gesto simile. Gli investigatori al momento stanno scandagliando la vita privata dei due per cercare di capire le motivazioni alla base del gesto. La donna con le figlie aveva trascorso a Torino le feste pasquali con la sua famiglia d'origine. Si sta cercando di capire se vi fossero dunque dei dissapori nella coppia, come sembrerebbe emergere nelle ultime ore. La procura ha disposto il sequestro delle salme, ma al momento non è stata prevista alcuna autopsia. Vi sarebbero state frizioni negli ultimi giorni che però non facevano pensare ad un epilogo così tragico tra Simone e la moglie Alice. Le figlie di 6 e 7 anni erano in casa al momento della tragedia. Sembrerebbe che la donna lo volesse lasciare. Da quattro giorni l'ispettore capo era in ferie. In passato aveva prestato servizio nella polizia stradale in Val di Susa. Circa 6 anni addietro si era trasferito a Ragusa dove aveva lavorato nella polizia stradale. Dal 2016 era in servizio nella squadra volanti della questura Iblea. Sono rimasto basito, non c'erano segnali da parte del poliziotto che facessero presagire un epilogo così. Il suo fascicolo personale dal punto di vista disciplinare, sanitario e pulito sono senza parole. Ha commentato il questore di Ragusa Salvatore Larosa. Prima di uccidere la moglie ha lasciato un messaggio sul suo profilo Facebook. Ti ho dedicato tutta la mia vita. Ti amo.